Ciao a tutti, sono Massimo Banzi di Arduino. Vi volevo segnalare un'iniziativa molto interessante che abbiamo creato insieme a Campus Store e Media Direct rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie italiane. In quest'anno complesso per la scuola ci sembrava importante ripartire da quello che è essenziale, cioè gli studenti. Per questo abbiamo creato questa iniziativa rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie italiane che possono essere selezionati per ricevere un Arduino Student Kit e poi partecipare a una sperimentazione per avvicinare sempre più studenti e insegnanti al mondo di Arduino. Troverete tutti i dettagli in un articolo del blog. C'è un link che spiega come fare a partecipare. È molto importante che voi partecipiate perché proprio in questo momento è importante che sempre più persone abbiano accesso ad Arduino, alle tecnologie per fare anche una scuola migliore anche da remoto. Grazie a tutto, per favore partecipate numerosi e a presto. Ciao!